Partiti Faroaldo Marder King San Aurora Ebner Blue Barak Balak Spirit Divine Black Ranger Democrito Poco prima dell'ingresso Indirittura Axa Reim E Salisburgo Conducono davanti a Marder King E San Aurora I cavalli entrano Indirittura Con Axa Reim In vantaggio lungo la corda Davanti a Salisburgo a centropista Marder King Faroaldo San Aurora Ebner Balak Black Ranger Spirit Divine E in leggero vantaggio Axa Reim Davanti a San Aurora Centropista Ebner Balak E in leggero vantaggio Passa Blue Barak Davanti a Ebner San Aurora Balak E Spirit Divine Si stacca Blue Barak Davanti a Balak Ebner San Aurora Scatto vincente Di Blue Barak Maurizio Pasquale Oggi in forma Smagliante Mette anche questa volta Il suo sigillo Sulla corsa Il numero 4 Blue Barak Rosical anting B Camilla Contag C Ind